Tegola Tugnov, il centrocampista Estone sarà costretto a saltare il posticipo casalingo con Rimini per gli impegni di qualificazione ai prossimi europei con la sua nazionale. Si pensava che potesse partire subito dopo la sfida con i Romagnoli e invece Tugnov dovrà raggiungere il ritiro della nazionale Estone entro la giornata di domani. L'Estonia giocherà contro l'Austria giovedì 16 novembre e contro la Svezia domenica 19 novembre quando è in programma Pontedera-Pescara che invece sarà rinviata. E' infatti già partita la richiesta del club Biancazzurro vista l'indisponibilità non solo di Tugnov ma anche degli altri due nazionali a Cornero e Staver. La gara a Pontedera-Pescara verrà recuperata a dicembre. Dunque lunedì sera ore 20.45 il posticipo all'Adriatico con Rimini. Oltre come detto al nazionale Tugnov fuori anche lo squalificato Mesic. Scalpita di Pasquale favorito su Pellacani. Sarebbe il debutto in campionato per l'ex Foggia che finora ha collezionato una sola presenza in Coppa con Lafermana lo scorso 5 ottobre. Sulle fasce Pierno e Moruzzi. A centrocampo sicuramente Squizzato e Aloy insieme con Franchini in vantaggio su De Marco. In attacco Merola e Cangiano a supporto di Vergani che pare essersi ritrovato dopo la convincente prestazione. Goll e palo sfoderata in Coppa con Pineto. In corso d'opera probabile staffetta con Tommasini. Rimini terz'ultimo ma in netta ripresa. Sette punti nelle ultime tre partite. Se consideriamo la Coppa Italia sono tre i successi di fila. Tutti al Romeo Neri senza subire gol. Romagnoli privi del difensore Tofanari che proprio ieri si è operato al menisco del ginocchio destro. Sarà sostituito da Semeraro. Torna a disposizione Marchese. Nelle ultime uscite il tecnico Troise subentrato a Raimondi ha optato per il 4-3-3. Il giocatore di maggiore qualità il 23enne mancino Davide Lamesta. Finora quattro reti calciatore alla Chirico. Capace cioè di inventare e determinare. Compagni di reparto Morra autore dei 5 gol e l'ex Cernigoi.